Signor Presidente, cari amici, sono molto lieto di partecipare a questo incontro importante e puntuale dopo le rivolte nazionali in Iran. Io sono qui per esprimere la mia totale solidarietà a voi e al popolo iraniano che sta facendo la storia, che sta lottando contro questa dittatura religiosa. Queste proteste nazionali hanno dimostrato diversi fatti importanti, che abbiamo di fronte un regime debole ed instabile, odiato e disprezzato dal suo stesso popolo e che non ha alcun sostegno, soprattutto tra le classi povere e svantaggiate della società iraniana. A differenza di alcune analisi sul fatto che il Presidente, che si è autodichiarato un moderato, sia dalla parte del popolo, abbiamo visto che tutti i famosi cosiddetti moderati e quindi, così come Rouhani e l'ex Presidente Katami, prendere posizione contro i manifestanti e difendere la teocrazia. I manifestanti hanno gridato che non credono più nel gioco tra riformisti e conservatori. A dicembre la nostra Presidente Mariam Rajavi ha parlato al Parlamento Europeo, dicendo che la situazione in Iran è arrivata ora ad uno Stato esplosivo. Poche settimane dopo, come abbiamo visto anche prima, le sue parole si sono dimostrate assolutamente corrette. L'Unione Europea, compreso il mio Paese, l'Italia, deve ora correggere la sua politica estera e stare al fianco del popolo iraniano. Il cambiamento del regime in Iran è il diritto del popolo iraniano e noi dobbiamo rispettare questo loro diritto. Il regime iraniano ha detto chiaramente che il suo principale nemico è l'organizzazione dei mujahdin del popolo e il movimento guidato dalla Signora Presidente Rajavi. I nostri governi devono rendersi conto che questa opposizione è la migliore possibile per un Iran libero. Per questo dobbiamo sostenere tutti quanti la resistenza iraniana nella sua storica resistenza contro i mujah e sono sicuro che presto avranno successo. Vi ringrazio davvero molto. Grazie Presidente. Grazie.